E insomma, questa ragione Filippo Frasca, certe cose le dovremmo vedere. Ora questo stabile io non so quanto costa in affitto e neanche voglio andare a sindacare. Nel passato, ve lo dico in segreto, alcune cose sono state costruite apposta. Non so la questura, non so che vi posso dire il Catasto o la Guardia di Finanza o altro, certe cose succedono. Perché uno fa questo palazzo, poi guarda caso ci va preciso la questura di Ragusa. Però senza dubbio non si tratta di pochi soldi. Allora, chissà quante questure sono in affitto e io dico, come era stata fatta la battaglia una volta all'Assemblea regionale, no? Si potrebbe capire cosa risparmieremmo se facessimo altre scelte. Un esempio, il famoso palazzo, il palazzo Tumino, attenzione, non è mio, quindi è mio se su un zuccatto non mi interessa. Però se la questura paga un dotto al mese, se quello paga un dotto, se la Guardia di Finanza paga un dotto, se quelli paga un dotto, se l'ufficio del Catasto paga un dotto, tutte queste, cazzarola, mettiamoli insieme, compriamo un palazzo e ci siamo tolto i problemi. Sarebbe una, facciamo un centro direzionale importante con i posteggi, potrebbe essere un'idea, non voglio dare il gioco a come si chiama HC, però questo, quello, qua all'alto, un po' come il fatto della standa. La standa se la possono scordare. Poi lì dovremmo capire di chi è la colpa, se è stato il comune o intelligentemente qualche proprietario lì vicino ha detto prima ci faccio io il conto, perché è anche vero, se io fossi proprietario mediterraneo direi ma quella parte mi serve, se l'hotel mediterraneo mi serve, ci faccio il bello bar, ma pigliatelo, fateci quello che volete, ma pigliatelo. Io non è che sono contrario che il mediterraneo si compra la standa, mi dispiace che non l'ha comprato il comune di Ragusa, ma se se lo prende il mediterraneo con tanto piacere, perché no? E poi la questione della Ragusa, ah meglio, della Siracusa-Modica-Gela. Allora, a Modica ci siamo arrivati e come vi ho detto, ne mettiamo a studiare un musso, perché secondo me i soldi non li troveremo, però giustamente dicono quelli del PD, dicono quelli del Movimento 5 Stelle, ma noi abbiamo fatto di tutto e i soldi erano appostati, quindi se erano appostati dove sono finiti? Dove sono finiti? Il problema è anche il ponte, ricordate quella storia del miliardo, quindi allora devono fare il ponte che deve salvare i siciliani, vanno in Sicilia e dicono, ma non andate a miliardo, un miliardo ce lo dà i calabresi, ma noi veramente non volevamo essere salvati, io almeno, però dice ci serve un miliardo e tre. Il Presidente del Reggio ha detto, ma guardate che non un miliardo e tre non l'abbiamo, quindi non so come dobbiamo fare. E allora sapete cosa è successo? Che il Governo nazionale ha mandato 300 milioni alla Sicilia, questi 300 milioni sono serviti per una certa cosa, per cui abbiamo liberato i 300 milioni e li abbiamo ridati. Un gioco delle tre carte vergognoso. Il problema è che però la Siracusa Gela, che doveva essere pronta nel 1973, 73, 50 anni puliti, è fermo a Modica e secondo me non andrà avanti. Per fare questo tratto fino a Sicilia ci vogliono 400 milioni, 400 milioni e per arrivare a Gela, che ancora da Modica ci vogliono 78 chilometri, esattamente forse un po' di più di quello che c'è da Ragusa a Lentini. E quindi se là ci vogliono un miliardo e passa, da Modica arrivare a Gela ce ne vorranno due, due e mezzo. E che poi tra l'altro, mentre quella lì, la Catania, lavoriamo un po' sulla stesso tracciato e sulla stessa strada, sarà un casino, non ce la possiamo neanche dimenticare, cioè non ce la possiamo neanche ricordare. La cosa grave è invece che quella ancora manco esiste come strada. Abbiamo cambiato il percorso perché se no passava il Pino d'Aleppo, perché se no passava la Sic che con Vagliabella, l'abbiamo allungata di 10-12 chilometri e si è persa per strada. Questo è stato un altro errore, diceva, ma l'ambientalista ragiona, non ci mancherebbe altro. Allora il problema è che comunque a noi di Ragusa, che si faccia o non si faccia, non ci cambia nulla perché se vogliamo andare da Siracusa a Modica è più vicino. Poi chissà, vediamo che cosa diranno, aspettano la finanziaria per vedere con gli avversari, con una interrogazione dove sono andati a finire questi soldi. Altre cose ne possiamo parlare, ma abbiamo il tempo di farlo nei prossimi giorni. Invece vi ricordo appunto che la Befana ha chiuso tutto quanto, quindi ha chiuso anche le casette del gusto, quelle che ci sono state a Ragusa, un grande successo, ha chiuso tutte le attività natalizie e devo dire che in qualche modo è andata avanti. Però una cosa mi chiedo io, questo era un servizio sulla Befana che porta i doni, mi chiedo una cosa, ma i comuni che hanno tanta racina appesa, Messina, no? Messina ha speso per Natale 800 milioni di euro, 800 milioni di euro, ma tutti quelli che hanno bisogno, no? Dei pu che cantavano in piazza, ma che cazzarola se ne fregavano, 800 milioni. Va bene, abbiamo speso 10 mila euro, 800 milioni per fare il capodanno a Messina, e poi si lamentano, non lo so. Va bene, allora chiudiamo il nostro telegiornale dicendo queste due cose. Intanto, ecco, questo servizio che ci viene da fuori provincia, ma è molto interessante, per far vedere appunto davvero qual è la solidarietà. Poi andremo a parlare con Gianni Papa di sport, perché ci sono stati degli avvenimenti interessanti, il calcio, la passa l'acqua. Su questo, su questo devo dire, c'è una protesta, ma l'affronteremo nei prossimi giorni. Qualcuno dice, ma com'è possibile che la RAI, per esempio, no? Ma per esempio, questo dedica non so quanto tempo a un certo avvenimento, quando invece magari qua ci sono stati degli avvenimenti importantissimi e non ne ha parlato nessuno. E beh, che dipende anche dalla capacità, come si dice, di sponsorizzazione, non tanto economica, ma anche politica. Forse anche in questo siamo scherzuliti. Allora, vediamo questo servizio e poi subito dopo Gianni Papa che parla di sport. Grazie per l'attenzione, ci vediamo con la prossima edizione. Ciao a tutti.